L'organo accertatore sarà la Polizia di Stato, supportata la capiteria di Porto, perché la competenza in mare è evidentemente la capiteria di Porto. Inizieranno domani e non siamo ovviamente in grado di dare previsioni su quando termineranno, perché sono accertamenti molto complessi, ci metteremo tutte le attenzioni dovute e quindi vedremo poi quello che succederà. Domani inizieranno gli accertamenti, la nave domani sicuramente sta ferma. Quello che accadrà nei prossimi giorni non sono in grado di dirlo. E' l'organo accertatore che combinerà le sanzioni, se saranno da combinare ovviamente. Dovremo procedere con grande attenzione e con grande cura e vedremo alla fine delle verifiche se e quale eventualmente ipotesi dell'articolo 2 del decreto ONG sarà violato, ma è tutto prematuro. Siamo in attesa di sanificare la varca e siamo pronti per ripartire. Voi farete richiesta di lasciare il Porto? Sì, sì, come al solito, la procedura del routine. Ma al momento non abbiamo sentito e ricevuto nessuna notificazione, quindi per ora siamo tranquilli. Sei pronti a ripartire e rifare la vostra attività dunque? Sì, come sempre. Ci sono persone che continuano a morire male, c'è bisogno di un meccanismo di barche che salvano le persone che fanno questa rota della morte. Allora, mentre che non ci sia un altro meccanismo ufficiale, ricerca e soccorso, non ci saremo. Allora, grazie. Allora, grazie. Grazie.